Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia e in studio Nicola Giannattasio. Sulla Statale 1 Aurelia, a causa di un incidente avvenuto al chilometro 235 all'altezza di Piombino, il traffico è momentaneamente bloccato in direzione Livorno. Sulla FIPILI per lavori, un chilometro di coda tra Ginestra e Lastra in direzione Firenze e rallentamenti sulla carreggiata opposta in direzione mare. Sulla A1 ricordiamo che per lavori sono chiuse le corsie di destra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci con la chiusura dello svincolo di Firenze in prunita. La viabilità cittadina a Firenze oggi cominciano i lavori alla rete idrica in via Verdi con chiusure e modifiche alla circolazione. Muoversi di Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!